ed eccoci tornati anche oggi il format è questo candidiamo un video per il premio play duemilaventuno quindi l'obiettivo come sempre è quello di scovare un creator del web scovare soprattutto dei contenuti validissimi che spesso non si conoscono spesso tu stesso magari non l'hai mai visto e allora questo è l'obiettivo di oggi quindi intanto ditemelo se già conoscete l'autore di oggi e se già avete visto questo video ma non credo io onestamente ho visto i primi 10 secondi e mi sono fermato ho detto no questo va visto insieme va condiviso quindi vi condivido lo schermo per farvi vedere il nome dell'artista svevo moltrasio che non so se definire artista fatto sta che è un creativo sicuramente è un creatore di contenuti online e a me piace molto lui come come creativo appunto perché riesce anche con pochi mezzi con mezzi molto sporchi spesso gira con un cellulare o comunque non ha questa grande estetica patinata nei video che produce ma allo stesso tempo sono contenuti altamente qualitativi in termini di contenuto in termini soprattutto del messaggio che poi ti rimane addosso sono video solitamente molto brevi quello che vedremo oggi infatti è da tre minuti è questo qui ora lo metto a tutto schermo chi non ride fuori credo che non sia un caso anche un po la citazione del momento il trend topic di questi giorni è il format lol di questa mini serie che è stata prodotta e distribuita da amazon che appunto si intitola lol chi ride è fuori invece in questo caso lui gioca sulle parole lo chiama chi non ride fuori quindi sono molto curioso di vedere cosa ci ha combinato oggi svevo e tanto lo chiedo a te corato se ci sei se lo conosci già ecco vedi mi piacciono molto i suoi contenuti sono molto contento che lo conosci perché è già da qui si denota anche un po la selezione che ognuno di noi fa sul web quindi bene bene non so se l'hai visto però questo questo specifico video credo che sia proprio di poche ore fa andiamo a vedere quando è stato pubblicato 9 aprile e quindi sì oggi oggi è 9 aprile e quindi sì sarà proprio da poche ore quindi forse non l'hai ancora visto infatti questo non l'hai visto e allora dai vediamocelo insieme e direi di mettere play 3 2 1 vai in sei anni tra il 1939 e il 1945 il nostro pianeta fu devastato da quello che ha tutt'oggi considerato il più grande conflitto armato della storia la stima totale dei morti durante quella che è definita la seconda guerra mondiale oscilla intorno ai 60 milioni quasi il 4 per cento dell'intera popolazione tra militari e civili uomini donne e bambini in tutto il mondo città e paesi vennero rasi al suono non fece eccezione l'italia la quale da nord a sud fu oggetto di drammatici bombardamenti nel nostro paese alla fine del conflitto si contarono indicativamente quasi mezzo milione di vittime più dell'un per cento dell'intera popolazione italiana tra milioni di sfollati edifici devastati città da ricostruire interamente già con il conflitto ancora vivo in italia di reazione al doloroso periodo in ambito creativo si afferma una corrente che segnerà la produzione artistica di tutto il mondo è il neorealismo nato dal bisogno di raccontare nella maniera più veritiera e tangibile il dramma ancora in atto anche nel cinema una forma espressiva all'epoca giovane vissuta per lo più come semplice intrattenimento e possibilità di svago irrompono i volti scavati i vestiti sporchi e le strade quelle vere ridotte in macerie oggi dopo poco più di un anno di pandemia legata al covid 19 in italia si contano poco più di centomila morti di questi esclusivamente un 3 per cento non presentava alcuna patologia pregressa e solo l'un per cento aveva meno di 50 anni nessuna città è stata bombardata né distrutta ma siamo spinti al distanziamento sociale all'uso della mascherina e la maggior parte delle attività sono costrette alla chiusura causando difficoltà economiche e conseguente scoramento da più di un anno siamo per lo più tutti a casa tra internet i social le televisioni cellulari in italia di reazione al doloroso periodo in ambito creativo si afferma questo benvenuti a lol dieci comici in una gara tutti contro tutti è un incubo questo gioco la regola è una chi ride è fuori così se nel 45 46 al primo posto del box office italiano si piazzava roma città aperta di roberto rossellini uno dei catisaldi proprio del cinema neorealista oggi il trionfo social di lol è talmente caloroso che se uno degli ultimi esponenti di quella ormai obsoleta attività un tempo chiamata critica si permette di esprimere perplessità viene percolato dagli stessi protagonisti della trasmissione a catena tutti i followers sempre nell'intelligente prospettiva che una critica è giusta e utile solo se conferma il nostro punto di vista ma perché sì come si dice sui social giustamente questi critici seriosi noiosoni non capiscono che dopo questa annata drammatica abbiamo bisogno di un po di spensieratezza leggerezza un po di sana comicità cazzo grosso che per fatti c'è sta niente di male eppure io ho visto l'oro però levatemi giusto una curiosità ma fino ad anno fa prima della pandemia invece passavate giornate a leggero sto gli eschi frusto dice e canta ascolta schermberg a guarda solo cinema polacco asiatico e questa è la satira sua il suo timbro il suo timbro a me piace sempre secondo me riesce a cogliere le vibrazioni popolari e comunque a darti una chiave di lettura che non è quella del mainstream non è quella che che vedi anche su appunto sui twitter sugli stessi che tra l'altro si alimentano a vicenda e lui è questo fa questo ed è per questo secondo me che gli riesce molto bene perché lo fa solo lui e pochi altri io quello che faccio è andare a vedere i commenti proprio per avere il polso anche della della giuria popolare cioè diciamo proprio degli spettatori che lo guardano ciao raffaele ha un sostegno in ogni video da quelli in cui compara parigi a roma fino a questo guarda quello è stato un video bellissimo quello in cui compara parigi e roma come anche altre comparazioni su sempre sui contesti sociali lui ci ha vissuto in francia quindi è chiaro che c'è un occhio molto più tagliente su quel su quello stile di vita va bene qui sono appena arrivato ok allora te lo te lo faccio recuperare assolutamente guarda te lo condivido il link qui in chat di eccolo qui ve l'ho messo adesso vattelo a vedere raffa perché secondo me questo è un autore che dovresti assolutamente conoscere al di là di questo singolo video specifico secondo me ha fatto veramente delle belle chicche nel tempo che puoi recuperare sicuramente dal suo canale youtube e oggi in particolare abbiamo visto questo perché è l'ultimo pubblicato di qualche ora fa ecco una cosa che mi è piaciuta di questo video è che lui sottolinea un fatto un elemento l'elemento qual è l'elemento è condannare come come se fosse proprio un dogma come se fosse una direzione unica chiunque vada a banalizzare o a alzare la mano e dire ragazzi ma siete sicuri che questa cosa è proprio come la state descrivendo in tanti ecco un po queste voci fuori dal coro vengono sempre un po tagliate fuori in quest'ultimo periodo soprattutto e questa non mi piace come cosa sono d'accordo con questa critica che fa lui nel video e onestamente aspetta che qua mi sono perso ok streamlabs che è partito con i suoi bot stavo dicendo che li devo aggiornare vedi allora funzionano funzionano forse sono risbloccati da prima ecco dicevo questo è un elemento che secondo me è vincente di questo video che condivido e ti arriva così secco soprattutto sta migliorando sempre di più nel montaggio ora fammi vedere un attimo se alla fine ci sono i credits vediamo un po purtroppo qua ci stanno le schede del video voglio capire se l'ha montato lui mannaggia non ce lo fa vedere vediamo un po dall'anteprima se ci toglie le schede no dice semplicemente di e con svevo vediamo se tra i credits compare qualcosa e probabilmente l'ha montato lui ecco allora a maggior ragione voglio dire che sta diventando sempre più bravo anche nel montaggio svevo sono sempre più complessi anche i suoi video allora andiamo a leggere un po di commenti intanto se qualcuno si è collegato adesso allora ditecelo lo conoscevate già svevo moltrasio dei ritals che è stata la serie che l'ha lanciato sul web che l'ha reso celebre allora andiamo un po a leggere questa è l'italia del futuro un paese di musichette mentre fuori c'è la morte citazione questa svevo che ride non esiste non può farti paura svevo che ride vediamo un po no ragazzi me lo devo avvicinare perché io non ci leggo se no sono mio ho il monitor troppo distante sei incredibile sei riuscito in soli tre minuti a fare un paragone storico e allo stesso tempo una tagliente critica secondo me meriti molto più pubblico questa concezione che avere sempre più pubblico sia sempre una cosa positiva perché capita spesso vai vai vattela recuperare perché merita 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 davvero perché grazie mille svevo che porti danni contenuti di qualità ma soprattutto pensanti mi ci ritrovo ecco qua abbiamo un commento che rispetto alla mia analisi di prima la voce fuori dal coro grande sve e questo è lui in pieno ti seguo da quando lavorando in francia ridevo alle verissime critiche ai francesi ora che mi sono trasferito a roma ti ritrovo con piacere a quando un corto allora senza entrare troppo nel merito di lol perché non è questo il topic del video vorrei andare a prendere qualche frase qualche parola chiave di questi commenti come ad esempio vediamo un po eccolo questa parte qui grazie ops stavo copiando la parte sbagliata grazie mille svevo che porti da anni contenuti di qualità ma soprattutto pensanti allora questo io me lo conservo me lo segno e me lo vado a scrivere nella creazione del post perché l'obiettivo al momento è creare il post per poi essere e far votare il video sulla pagina ufficiale del profilo instagram del premio play allora andiamo a creare un post feed di instagram premio play eccolo qua e ci andiamo a copiare intanto questo pezzetto in realtà dovrei copiarmi il testo di default che abbiamo qui sul profilo ufficiale premio play eccolo qui allora ci andiamo dentro questo era il video che abbiamo conditato la scorsa volta ce lo andiamo a copiare tutto quanto eccolo qua vai ho visto lol e devo dire che mi è piaciuto ma la tua riflessione mi sembra molto interessante intelligente polarizzazione la parola che più di tutte può spiegare l'andamento psicosociale del nostro tempo rischiamo di rinchiuderci nelle nostre piccole ed estreme verità la critica quella stimolante non trova spazio nel vestito troppo stretto grazie svevo perché questo video ce lo ricorda fortemente mi suona dai bene bene allora ricapitolando le tre parole chiave del premio play sono cultura e in questo caso il video racconta una cultura di un paese quindi proprio è forse uno dei dei video che su questa parola riesce a racchiudere e a entrarci a gamba tesa più di tutti cultura ci sta alla grande innovazione secondo me anche ci sta alla grande perché racconta l'innovazione del format che va a commentare a criticare quello delle nuovi dei nuovi show televisivi come può essere lol e comunque è innovativo perché è montato in maniera molto fresca c'è un linguaggio molto rapido veloce molto moderno che è figlio di questo tempo la terza parola chiave è la creatività e la creatività anche qui entra in gioco in maniera forte sia come il linguaggio sia anche un po dal punto di vista culturale cioè spesso è difficile muovere una critica intelligente cosa che veniva sottolineata nei commenti tante volte cioè l'intelligenza di fare una critica che comunque si capisce che parte da una base culturale di analisi della storia ha fatto riferimento al dopo guerra ha fatto riferimento al cinema neorealista italiano quindi si vede che c'è una cultura dietro che quindi ti permette anche di usare la creatività per muovere una critica per andare controcorrente per essere un po la pecora nera che però non è che punta il dito e basta punta il dito dicendo delle cose intelligenti che comunque ti fanno ragionare e ti fanno riflettere quindi farlo nella forma implica anche una certa creatività e secondo me lui ci è riuscito in questo quindi queste tre parole chiave che sono le parole chiave del premio play lui ce le ha in pieno tutte e tre e quindi ecco ragionamento che devo fare dovete anche fare voi se volete candidare un video per il premio play perché sono fondamentali per far sì che siano coerenti i partecipanti e i candidati a quello che rappresenta il premio anche in maniera più ampia come obiettivo come spirito come filosofia bene allora abbiamo il nostro testo ci manca soltanto il tag allora qui andiamo a cercare svevo moltrasio su instagram allora a questo punto ci siamo salvati tutto quindi andiamo a pubblicarlo siete pronti mamma mia ragazzi tra un attimo sarà votabile sul profilo ufficiale del premio play su instagram premio play eccolo qua andiamo a ricaricare la pagina vediamo quando sarà online subito in me anche non si dica eccolo qua allora intanto lo vado a votare come Giacomo Siska vi metto qui il link così se volete andarlo a votare attraverso instagram potete farlo anche voi ricarichiamolo da zero sono molto contento spero vivamente di averlo tra i concorrenti di questa edizione del premio play svevo moltrasio perché davvero secondo me una di quelle un di quei creators che manca soprattutto perché oggettivamente è un boomer vuoi per voi per età vuoi perché comunque oddio non boomer no boomer no lui non è un boomer ma non perché non voglio fare dissing o cose di quel tipo ma perché secondo me anzi al contrario di tante persone della sua età della sua generazione lui è riuscito a dare il suo contributo a trovare un modo di espressione che funziona sui social quindi assolutamente non è un boomer però per dire che è quello che mancava secondo me in youtube italia mi ha fatto super piacere farvi scoprire in questo caso per corato no perché già lo conosceva ma per tutti gli altri anche per chi vedrà questo video su youtube vita da videomaker mi ha fatto piacere farvi scoprire un video nuovo un creativo nuovo sul web che merita assolutamente attenzione ragazzi ci siamo io metto in pausa la musica anche perché abbiamo la super sigla per chiudere la nostra chiacchierata di oggi noi ci vediamo a lunedì lunedì prossimo alle 18 orario fisso per andare a candidare un altro video per il premio play buon weekend ragazzi e ci vediamo alla prossima che il video sia con noi